Presidente Buongiorno consigliere Buongiorno e buon lavoro Buongiorno consigliere Ripresa della seduta di consiglio della quinta circostruzione Il 17 febbraio 2022 Sono le 10 e 08 Continuiamo con l'appello Teresi Presente Aiello Presente Altadonna Altadonna assente Cavaliere Cavaliere assente Di Gesù Presente Figuccia Figuccia assente Rosardo Presente Lucido Presente Palazzo Palazzo Presente Presente Ok abbiamo sette presenti e tre assenti Sette presenti e tre assenti La seduta è in numero legale e riprende Buongiorno consiglieri Scusate ma Vi ringrazio il vicepresidente per avere sospeso un attimo Per avere sospeso un attimo la seduta C'erano alcuni problemi in ufficio che abbiamo dovuto risolvere e affrontare Va bene Scusate ma mi devo riprendere sono preso dalla botta pure io E allora bisogna avevamo ieri prelevato un punto del prelievo del parere Essendo oggi però in seduta normale dobbiamo riprelevare il punto Qualcuno ha comunicazione prima di passare al punto veloci Presidente mi scusi posso? Scusate Rosardo prego Desidero sapere se ha attinto notizia in merito a quel quesito che le ho posto ieri Me lo ricorda consigliere Rosardo? In merito al CCE? No no Purtroppo no Purtroppo no Va bene Ne parliamo settimana prossima Avrà più tempo Va bene Grazie Allora vi ricordo invece ricordo ancora una volta domani alle 10 appuntamento al polo tecnico di via Usonia Alla commissione traffico e mobilità Va bene Allora chiudo la discussione generale sulle comunicazioni Il consigliere stabile, la consigliera di Gesù e il consigliere Palazzo Scrutatori Qualcuno è contrario? Approvati gli scrutatori Approvati gli scrutatori Pongo in votazione Il prelevo Scusi stabile è uscito Di Gesù Palazzo No dico stabile è uscito È uscito Buongiorno consigliere Cavalieri Il consigliere lucido di Gesù è dal Palazzo Approvati gli scrutatori Passiamo al prelievo del punto 70 Se non ricordo male Vero Palumbeni? Esatto Siamo in bella vista Allora Punto 70 Sì il punto 70 Perfetto Pongo in votazione il prelevo del punto 70 Qualcuno è contrario? Qualcuno si astiene? Approvato il prelevo del punto 70 Dovevamo oggi leggere la lettera accompagnatoria Che ieri abbiamo visto che c'era Palumbeni Sì Pronti Siamo leggendo la lettera accompagnatoria Buongiorno Buongiorno consigliere Altadonna Allora Si trasmette in allegato Per ulteriori corso La proposta deliberativa di consiglio comunale Numero 155-848-2021 Del 17-12-2021 Indicato in oggetto Trasmessa dalla paginiera generale Con email del 9 giugno 2021 Firmata digitalmente e regolarmente munita Dei presenti pareri Di regolarità tecnica Reso come favorevole in seno Alla proposta deliberativa in argomento Di regolarità contabile Reso con nota numero 156-31-57-2021 Del 17-12-2021 Come non dovuto In riferimento alla suddetta proposta deliberativa Lo scrivente reputa Confacente A beneficio dell'ordine non deliberante Rappresentare Quanto segue Con allegata mail del 20-12-2021 L'ufficio proponente ha comunicato Di aver trasmesso la proposta deliberativa In esame alle circostituzioni comunali Di decentramento Per l'espressione del parere obbligatore Non vincolante di competenza Dei termini abbreviati Di quell'articolo 19-3 Del vigente regolamento Per il decentramento Approvato con deliberazione numero 6 Del 24-2-2021 Del commissario ad acta Nominato Con Numero 17-2021 In sostituzione Del consiglio comunale Con allegata mail Del 20-12-2021 L'ufficio proponente Con riferimento al parere del collegio Dei revisori A confermare il provvedimento L'argomento Debba essere corredato Del progetto documento Ha ritenuto Che la sottoposizione Quello stesso Al collegio dei revisori Fosse di competenza Della regione In conformità Alla nota Del segretario generale Protocollo 588-095 Del 7-5-2020 Per quanto sopra Si chiede Su detti ordini Anch'essi L'indirizzo Di volere rendere I pareri Di rispettiva competenza Direttamente all'organo consigliare Avendo cura Di informare Per conoscenza Anche lo scrivente Di fatto Non dice assolutamente nulla Dice che Hanno mandato Gli allegati Ed infatti Qualcuno chiede Di intervenire Sulla proposta Nessuno chiede Di intervenire Allora Allora Se nessuno Chiede di intervenire Io forse Potrei mettere In votazione L'atto Palomberi Sì Presento Sì Allora Io però Aspettate Perché Palomberi Siccome sto vedendo Una serie di abbandoni Prima di passare in votazione Facciamo la verifica Del numero legale D'accordo Aspettate Vediamo subito Sono le 10 E 15 Pelesi Presi Presi Presente Presente Tagliello Assente Altadonna Assente Cavaliere Presente Di Gesù Presente Luccia Luccia Assente Assente Rosardo Assente Lucido Assente Palazzo Presente Presente Stabile Signor Palomberi Io sono presente Altadonna Altadonna Presente Stabile Abbiamo detto Stabile Intanto Figuccia Io sono presente Figuccia Presente Grazie Allora Eriamo arrivati a Stabile Stabile Assente Sei presenti E quattro assenti Sei presenti E quattro assenti Ok Però io non ho capito Altadonna Se era presente o assente Io non ho capito Era assente Poi ha detto Presente Presidente Presidente Ok Va bene E allora siamo In numero legale E allora passiamo Alla votazione Dell'atto Consigliere Ok Ora Dieci Diciasette Presi 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 Presidente Mi sente Io vedo il microfono Acceso Presidente 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 Assente Aiello Aiello Assente Altadonna Altadonna Assente Cavaliere Cavaliere Assente Di Gesù Sono qui Astenuto Astenuta Figuccia Posso votare Alla fine Grazie Scusate Io Mi ero scollegato Scusate Non so perché Ma mi ero scollegato Di Presidenza Continuiamo La votazione Voto alla fine Voto alla fine Figuccia Che significa Voto alla fine Figuccia O vota O si vota È stato chiamato Figuccia Vabbè Losardo Losardo Assente Lucido Assente Palazzo Astenuto Astenuto Stabile Stabile Assente Allora Presidente Votazione È astenuto Figuccia Astenuto Figuccia Astenuto Quindi abbiamo Abbiamo Sei assente Quattro voti Astenuti Quindi non c'è il numero Legale Non c'è il numero Legale Vabbè Allora Non essendoci il numero Legale Non è La votazione Non è valida La seduta È rinviata Di un'ora Seduta È rinviata Di un'ora D'accordo Ci vediamo Alle Undici Diciannove Diciannove